Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Tragedia nel mondo dello spettacolo. A soli 35 anni la giovane ballerina bresciana, Maria Miceli, è morta. Il volto noto di numerosi programmi televisivi e video musicali ha lasciato i suoi fan senza parole. Maria aveva partecipato a diversi programmi televisivi in Rai, Mediaset e anche su Sky. Rai, raggiungendo un grande successo. La ballerina era comparsa nella celebre serie televisiva Camera Cafè ed era stata protagonista del videoclip del singolo, Grande Amore, dei Volo, vincitore del Festival di Sanremo nel 2015. Purtroppo, la ballerina da tempo soffriva di una malattia che l'ha portata alla morte. I funerali si terranno nella chiesa di Manerbio, dove la giovane abitava con i suoi genitori, Anna Rita e Raffaele.